musica 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 ormai ooo ormai tu dai oi fanno questo oi mi cuo ooo ahia oh ma buona dai però rosso però questo eh dai non vale però va oh hai visto il ferro che ho messo prima eh? eh si si sai solo spingere oh adesso te lo metti in tabella oh oh passa 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 grande grande oh scusa dai vabbè colpa mia scusa no no vabbè tutta la data vale io scusa ma dai scherzi è colpa mia dai scusa 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 oh dai non fai tutto da solo passalo dai 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 ma che cavolo fai l'ho data troppo veloce scarso scarso ma cosa dici l'hai data troppo forte ah io troppo forte ma vai via vai ma che è che l'hai mancata è colpa tua è colpa tua ma vai via vai è colpa sua oh 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 gool asso ma sai fare go asso proprio lui proprio lui eccezionale gool forever haile vecchio grande eed man cazzo petroleum Oh, passi, passi, fermo, fermo, passi, 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 cos'è? Oh, è fuori, oh, non funziona così! Oh, fermi, ha un crampo! Dai,pay, fermi, vai, vai, vai! ti porto io, ti porto io. L'importante è che stai bene. Ok, finale di Champions League siamo 1-1, manca 30 secondi, ma attenzione, prende palla, se lo fa vincolo tutto, ultimo minuto, gol! Ok, finale di Champions League!